Dottore Antonio Scotto, chissà quante volte in questi mesi si è sentito chiedere dalle sue pazienti, sono incinta, posso fare il vaccino? Desidero un bambino, posso fare il vaccino? Sì, è vero, è una domanda molto ricorrente, molto ricorrente da due fasce di pazienti. La prima è la paziente incinta che giustamente chiede se può fare il vaccino. Attualmente i vaccini che sono presenti in Italia possono essere fatti da persone in gravidanza perché non c'è passaggio della malattia tra madre e feto. Quindi non ci sono rischi se non eventuali effetti collaterali, quali il rascio cutaneo, il dolore nel punto di inoculazione del vaccino, sono rialzi febbrili. C'è anche da dire però che non c'è uno storico di questo tipo di vaccino fatto in pazienti incinte, in pazienti gravide. Quindi in teoria è fattibile, non esiste però un supporto, un dato storico che ci dica di non farlo. Dottore, ci sono poi quelle donne che desiderano avere un figlio e seguono il programma della fecondazione medicalmente assistita. In questo caso il vaccino anti-Covid è consigliato e non consigliato lei come si regola? Anche in questo caso la paziente in desiderio di prole può tranquillamente fare il vaccino, soprattutto le pazienti che lavorano per esempio nel campo sanitario. A meno che non abbiano già iniziato una terapia e quindi stiano già facendo un percorso proprio terapeutico per la ricerca di una gravidanza, non perché il vaccino faccia male, ma perché un eventuale effetto collaterale del vaccino potrebbe poi inficiare la terapia. C'è anche da dire che non c'è bisogno di aspettare giorni o mesi dopo aver fatto il vaccino per poter cominciare una terapia perché non ci sono dati scientifici e non c'è storico che ci dica di dover aspettare un tot periodo per poter poi cominciare con eventuali farmaci. Ecco dottore, molte branche della medicina si sono dovute in qualche modo fermare in questi mesi di pandemia. Il ginecologo, specialmente quando segue una puerpera, non lo può fare. Come ha dovuto riorganizzare la sua vita di professionista? Partiamo dal presupposto che la mia attività principale è l'infertilità, quindi poi la fecondazione assistita. Noi abbiamo avuto uno stop all'attività della fecondazione assistita proprio impostaci sia dal CNT che l'organo che regolamenta i centri di fecondazione assistita che dalla regione. Stop che poi è decaduto già da un po' di mesi. Certamente da un punto di vista di attività lavorativa giornaliera ci siamo dovuti tutti adeguare a dei sistemi di sicurezza, quali la mascherina, il gel, la temperatura corporea, quindi tutta una serie di presidi, diciamo, un po' dovuti al buonsenso e un po' proprio impostici in questa maniera. Lei poi ha dovuto anche avere a che fare con l'impatto psicologico di dover negare alla partoriente la presenza di persone a lei cara, come può essere il compagno oppure un genitore. A questo punto la donna che partorisce si ritrova solo con lei e con lo staff medico presente in Diciamo che si ritrova principalmente con il figlio, che forse è la cosa che più riesce a farle sopportare tutto questo discomfort. Certamente avere un bambino, il proprio bambino a fianco, fa dimenticare tutta la fase negativa di questo periodo. Questi mesi di nuova esperienza per lei, che cosa le hanno insegnato? Da un punto di vista anche umano, penso che più di una volta abbia dovuto tranquillizzare persone in preda all'ansia. Guardi, nella mia vita non avrei mai immaginato di dover vedere una cosa del genere, molto francamente. È un periodo nuovo per tutti, è un modo di vivere nuovo per tutti quanti. Ci siamo dati conforto l'uno con l'altro. Il medico ha dato conforto al paziente e il paziente ha dato conforto al medico, proprio perché non sapevamo fondamentalmente anche come gestire, come affrontare, che cosa ci riservava giorno per giorno questo maledetto virus. Oggi ancora non ne siamo assolutamente usciti. Dobbiamo continuare a essere attenti, dobbiamo continuare ad avere determinate precauzioni. Siamo in una fase certamente migliore rispetto a pochi mesi fa, ma è stata una, certamente una lezione di vita, dove nulla è scontato, dove bisogna ricominciare a essere vicini alle persone, dove dobbiamo darci una mano l'uno con l'altro. Questo è stato un grosso insegnamento, certamente. Ecco dottore, qui nel suo studio, oltre alla laurea e alla specializzazione, ci sono molti attestati di partecipazione a master o a corsi di approfondimento. Lei da professionista ha dovuto rinunciare a tutto questo. I medici come pensano di poter recuperare in qualche modo? Che fate? Avete anche voi delle chat? Vi incontrate sul web? Allora, certamente oggi, quelli che prima erano i cosiddetti congressi, oggi vengono effettuati per via web, questo certamente. Quindi diciamo, l'aggiornamento continuo esiste ancora. Non c'è più l'aggiornamento continuo diviso, quello in prima persona. È tutto online e tutto via web, quindi chi vuole può continuare ad aggiornarsi tranquillamente.